ciao a tutti e bentornati sul canale io sono stefania in questo video vi mostro tutti gli acquisti fatti da primark nel centro commerciale il centro di arese sono stata a milano nel fine settimana scorso e ho acquistato un po di cose interessanti per sostenermi lascia un like al video e ovviamente commentalo mi raccomando iscriviti al canale se non sei ancora iscritto e attiva la campanella per seguirmi sui social ti lascio in sovraimpressione tutti i link ai miei canali ciao ecco qui questa è la mia shop bag di primark io ho preso quella riutilizzabile e l'ho scelta in questo bel marrone che ricorda molto i sacchetti di primark e vi ho fatto già vedere qualcosa che ho acquistato sulle storie di instagram parto proprio da questa felpa in questo bel rosa che avete visto appunto nelle storie di instagram mentre la provavo e l'ho approvata perché mi stava bene mi è piaciuta è corta in vita non è lunghissima arriva sulla vita appunto all'elastico sotto e sui polsini e allo scolo tondo io ho preso una taglia s l'ho pagata 6 euro è abbastanza larga non è di quelle spiancate infatti è dritta però veste bene seguitemi su instagram e nelle storie trovate appunto il momento in cui l'ho provata un piccolo accenno sul prossimo acquisto che sto per mostrarvi io già quest'estate nel mio tour di centri commerciali in lombardia ho fatto una ricerca perché volevo una salopette comunque un vestitino jeans che in realtà però non ho trovato ma perché ma perché primark in quel momento ad agosto era stato preso d'assalto e non aveva la mia taglia di salopette perché in realtà una salopette molto carina c'era ma era piccolissima era una doppia xs e per quanto io possa essere piccolina e magra comunque non mi ci stava ero lì dentro a pressione quindi ovviamente l'ho lasciata e adesso vi faccio vedere quello che ho preso ecco qui cosa ho preso ho preso questo vestitino che non è una vera e propria salopette effettivamente però mi è piaciuto molto perché è semplicissimo diciamo questa è la parte davanti ha le bretelle e lo scollo è sfondato ma sempre quadrato quadrato e ha i bottoni tutto sul davanti veste benissimo rimane leggermente largo sotto nel sottobraccia sotto diciamo le ascelle ma veste davvero nel mio caso veste bene io ho preso una taglia s se non ricordo male s 42 sì esatto una 42 taglia italiana e l'ho pagato 7 euro perché era scontato al 50 per cento il suo prezzo era di 15 euro vediamo qui sì sì una taglia 42 la parte dietro è fatta in questa maniera è semplice passiamo ora alle altre cose che ho comprato da primark però che non sono di abbigliamento i classici dischetti di cotone hanno cambiato la confezione adesso la confezione questa sono sempre 100 pezzi questi sono cotone 100 per cento e costano 2 euro l'uno e io ogni volta un paio me ne prendo poi i cappucci per gli spazzolini da denti questo costa soltanto un euro e sono appunto 5 pezzi bei colori le classiche salviette struccanti io prendo quelle di premium che mi trovo bene questa è una confezione doppia infatti sono due pacchi da 25 salviette l'una e costa 1,50 euro l'intera confezione perché vengono venduti a 2 alla volta e io prendo questi con l'olio di argan c'è scritto che per la pelle secca però in realtà io con la pelle grassa mi ci trovo bene poi passiamo alla cipria io prendo questa qui che è la numero 06 cool sand costa 2,50 euro e poi ancora make up e ho preso altre due spugnette per il fondotinta e entrambe costa 1,80 euro poi non ho saputo resistere a questa cosa fantastica che non è altro che una spazzola di mini è tipo la tango il teaser ma in realtà adesso aprirla un po complicato sono riuscita ad aprirla mi sono aiutata un po' eccolo qui ha le setole come la tango il teaser si morbide ma non tantissimo ma io in realtà non l'ho comprata per spassolarmici perché mi trovo benissimo con la tango così l'ho comprata come soprammobile è rossa e sta benissimo sulla mia scrivania bianca visto che questo è un video haul ne approfitto ed inserisco un cappotto comprato da candida un negozio qui di bari che ha come particolarità il fatto che è tipo i teddy bear che si usano questo inverno ce ne sono stati tanti di tanti colori di forme e dimensioni soprattutto perché sono tutti molto larghi a me sarebbe piaciuto prendere quello di zara ma non ho trovato la taglia perché appunto sono stati presi da assalto i negozi con questi teddy bear ce n'era uno molto carino da zara ma non l'ho trovato ho trovato questo in lana cotta che gli assomiglia tanto ed è davvero bello perché l'ho preso rosa eccolo questo è il colore ora lo prendiamo lo misuriamo ve lo faccio vedere indossato ed ecco qui indossato il mio cappotto nuovo e in questo bel rosa assomiglia molto al rosa della felpa che ho preso da primark il pelo è rasato quasi rasato non è proprio il pelo del teddy bear classico e mi è piaciuto perché perché è lungo nell'altezza che volevo cioè quasi alle caviglie insomma e veste bene mentre gli altri che ho provato mi andavano molto larghi quindi questa è una taglia xs e nonostante ciò va leggermente largo qui sul fianco ma non è tanto largo da non poterlo indossare comunque io lo indosserò con degli sciarponi o comunque con qualcosa sotto perché non vado mai in giro così scolata perché sono una persona freddolosa e per questo motivo dico che è molto caldo infatti l'ho preso per questo ma non sostituisce il burric o l'altro mio giocone di marina militare che comunque è in piuma d'oca o il kiwi ecco questo no però è una bella giacca che si può portare tranquillamente la mattina per me nella mattina sicuramente no assolutamente no e questo l'ho pagato 30 euro sempre scontato perché era in periodo di saldi adesso invece vi faccio vedere un'altra cosa che ho comprato a milano ma che non riguarda assolutamente l'abbigliamento e l'ho preso da starbucks quando vado a milano oramai non posso che passare da starbucks sono stata nel locale di milano centrale e ho preso questa tazzina mi piacciono le tazzine da espresso quasi quanto quelle mag quelle grandi allora questa è tutta bianca con i decor in questo color oro c'è ovviamente il logo e la manica il manico color rosso quindi ricorda molto il natale e ci sono tutte le caratteristiche dell'italia in generale e infatti poi c'è scritto italy qua su ci sono fontane chiese c'è il colosseo la vespa la pizza i monti colli poi vediamo le nuvolette il pallone da calcio poi c'è questa arena che non so cosa voglia essere forse l'arena di verona bella 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 mi piace questa si aggiunge alla mia collezione il video termina qui spero ti sia piaciuto non dimenticare che per sostenermi basta lasciare un like commentare il video condividerlo sui social ed ovviamente se non sei ancora iscritto iscriviti al canale spunta anche la campanella e potrei essere avvisato tutte le volte che pubblico un nuovo video ciao e alla prossima